Una mostra che ripercorre alcuni dei momenti più significativi della straordinaria testimonianza di Giovanni Paolo II, del suo percorso umano e spirituale, del suo messaggio unico, dolce e commovente, di monito e di speranza. Le immagini raccontano della sua vocazione e del sacerdozio, della devozione alla croce e alla madre di Dio, del suo impegno per la difesa della pace, della vita, della famiglia e ancora dei suoi viaggi apostolici, della speranza riposta nei giovani e nelle donne. Il 2 aprile del 2005 tutti abbiamo assistito, almeno noi che abbiamo l'età, al passaggio alla morte di Giovanni Paolo II, un Papa che ci ha accompagnato per tanti, tanti anni ed è diventato il punto di riferimento del mondo intero. Abbiamo ancora negli occhi le processioni enormi, infinite, di giovani, bambini, vecchi, adulti che andavano a fare visita, all'ultima visita, a salutare la salma di questo Papa e poi al funerale. Ebbene, il 2 aprile di quest'anno, del 2023, nella chiesa di San Rocco, qui ad Acireale, insieme alla fondazione Taormina Arte, ospitiamo una mostra, una mostra proprio su questo Papa che nel frattempo è stato canonizzato, San Giovanni Paolo II. E così potremmo, almeno in parte, attraverso immagini, frasi, ripercorrere la grande avventura di quest'uomo, veramente straordinario, che credo si sia impresso nel cuore di tutti noi, ma anche ha inciso profondamente nella storia europea e mondiale. Alle ore 12 della Domenica delle Palme, cioè 2 aprile, chi può venire ci farà piacere, inaugureremo insieme questa mostra che durerà tutto il mese di aprile fino al 1 maggio. Grazie.